è vino asciutto asciuttissimo sapido lungo sta in piedi non molto giovane la frutta è croccante fresca ottimo vino diciamo colore un giallo paierino tendente al verde colore sicuramente verdolino dei ricordi vegetali che ancora ancora molto molto evidenti lascia un sapore lungo dall'odore molto fruttato quindi un vino fresco è pronto all'odore fruttato direi sapido e mi sembra anche equilibrato alla bocca è molto sapido limpido e non direi perdoniano ma verde il vino più verde che ho visto in vita mia un bel vino soprattutto è un fiano tipicissimo attualmente l'azienda alba marina vanta appunto di quattro ettari di vigneto due destinati italiani da due a fiano e per fine anni inventeremo altri settori diciamo pochissime bottiglie intorno alle 13 14 mila bottiglie però bottiglie senza dubbio come dicevo prima di alta quantità e a a Grazie a tutti.